Il Covid-19 si vince di squadra. A ribadirlo, nei giorni scorsi sono state le infermiere del presidio ospedaliero di San Marcello, la cui medicina è stata convertita in poche ore in reparto di cure intermedie per il coronavirus. Le nostre eroine, anche se loro accettano malvolentieri di essere chiamate così, che nei pochi momenti di pausa e in pochi secondi hanno trovato il modo di raccontare la loro esperienza professionale e umana. Poche parole, ma sufficienti a regalare forti emozioni a chi le ascolta. E poi, sopra la mascherina ci sono quegli occhi che raccontano di tutto e di più. Come operatori sanitari vogliamo inviare un pensiero di vicinanza veramente sentito a tutte le persone colpite dal Covid, non solo gli ammalati e i loro familiari, ma anche quelli preoccupati per il futuro occupazionale. Personalmente devo dire che mi ha segnato profondamente negli affetti soprattutto familiari, perché essendo infermiera Covid, in un reparto Covid-19, io ho dovuto scegliere di far spostare mio figlio e farlo andare ad abitare dai nonni. Devo dire che all'inizio avevamo tanta paura, pensavamo di non essere adeguate anche a poter assistere a questa tipologia di malato. Invece dopo un mese di lavoro mi sono resa conto che non è così, cioè è stata anzi una bella soddisfazione a livello professionale, ci siamo messe in gioco, ci siamo ristrutturate come reparto, come gruppo e questo insomma secondo me ha anche dato, ci ha gratificato a livello professionale. Sicuramente abbiamo affrontato questa esperienza con molta paura all'inizio, perché non eravamo pronte a questa cosa che non si conosce, non si conosce bene ne ancora, però ci abbiamo messo tutta la nostra professionalità e anche tutta la nostra umanità, come del resto avveniva anche prima. Non siamo infatti degli eroi, siamo dei professionisti. Io sono un pochino la coordinatrice di questa squadra che sta lottando contro questa brutta malattia e che cerca di dare il meglio di sé e così sta facendo, sta facendo veramente. È una squadra nella quale io ho sempre creduto e che si sta dimostrando tale. Bravissima. Trovandoci davanti invece al malato, anziano per lo più, molto diciamo bisognoso di cure ma anche di affetto, perché non avendo la possibilità di frequentare i suoi familiari era molto spaventato. Quindi abbiamo detto se è spaventato il malato noi dobbiamo reagire e la nostra forza è nata del personale sanitario, è venuta fuori e abbiamo affrontato questa situazione col cuore.